BORJA MARTINEZ e GERARDE MIRO BORJA MARTINEZ e GERARDE MIRO lavorano a Barcelona nel studio grafico di Lo Siento. Sono in Perugia dal principio del festival hanno coordinato una parola hanno dato un discorso hanno lavorato con i papi per fare il nostro lancio insieme. Lo Siento, quali sono i vostri progetti futuri? Stiamo lavorando con diversi progetti in Barcelona e uno di questi progetti è un lavoro per un agricultor che è un agricultor che è un agricultor di cossi quindi abbiamo fatto l'identità per questo posto quindi è un progetto speciale per lavorare con le cossi e il progetto questo progetto è molto complesso perché è una farm un auditorio e un piccolo prodotto di cossi prodotto di cossi quindi stiamo sviluppando la prima parte di questa identità per la farm e poi faremo il resto dell'identità per l'auditorio e la prodotto di cossi il progetto è chiamato Blanca che significa bianca perché è un progetto transparente e molto sostenibile con la sicurezza della cossi e quindi pensiamo e propostiamo questo nome abbiamo fatto il nome la prima fase era il nome quindi abbiamo con questa idea di Blanca quindi Blanca è il nome di una persona di una ragione chiamata Blanca della cossi della cossi è un progetto molto speciale quindi stiamo lavorando per un bianca per fare una linea di baggeri per ogni diversa e è un bianca molto speciale quindi è un tipo di artista di un bianca molto speciale di un bianca molto speciale di un bianca di un bianca molto speciale di un bianca di un bianca e anche facendo un progetto per il IAC l'Institut di Arquitetura in Catalunia facendo un bianca di un bianca di un bianca di un bianca fare anche di un bianca di un bianca